Il principio di separazione tra gli organi politici e quelli gestionali trova il suo fondamento nell'articolo 97,2 della Costituzione che recita che i servizi pubblici sono organizzati per garantire il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa che richiama sostanzialmente anche l'articolo 1 della legge 241-90, legge sulle nuove norme sul procedimento amministrativo e diritto di accesso agli atti, in cui l'attività amministrativa persegue i fini determinate dalla legge ed è retta dai criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, trasparenza e pubblicità. Nel nostro ordinamento giuridico la realizzazione del fine pubblico spetta agli organi politici agli organi di governo che, riferiti all'articolo 4 del decreto legislativo 165 del 2001, il TUPI, il testo unico sul lavoro delle dipendenze e le pubbliche amministrazioni, afferma che gli organi di governo sono organi di indirizzo e di controllo politico amministrativo. Basti pensare proprio al Consiglio Comunale, riferito all'articolo 42 del TUE, il DLGS numero 267 del 2000, dove il Consiglio Comunale è un organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo. Il Consiglio Comunale si occupa dell'approvazione dello statuto e dei regolamenti comunali, tranne quelle dell'ordinamento degli uffici di servizi di competenza dell'aggiunta a organo esecutivo, come prescrive sempre l'articolo 48,3 del citato TUE, poi il Consiglio si occupa della gestione finanziaria dell'ente locale, approva secondo il ciclo il DUP, documento unico di programmazione, in successione entro il 30 settembre approva anche il bilancio consolidato introdotto dall'armonizzazione contabile, il DLGS 118 del 2011, poi approva il bilancio di previsione, il rendiconto, le variazioni di bilancio riferite all'articolo 175 e per quanto concerne anche il riconoscimento dei debiti fuori bilancio riferite all'articolo 194 del TUE. Quindi gli organi di governo definiscono i piani e i programmi per la realizzazione degli obiettivi, definiscono anche i criteri in merito a sussidi economici riferiti a soggetti terzi. Mentre per quanto concerne lo strumento tipico di separazione tra gli organi politici e quelli gestionali è sicuramente il piano esecutivo di gestione che ex ante viene predisposto dall'organo giuntale, organo politico, che definisce gli obiettivi, tali obiettivi come recita anche l'articolo 108 del TUE, il PDO, il piano degli obiettivi, nei comuni superiori a 100.000 abitanti viene predisposto dal direttore generale, di converso dal segretario comunale nei comuni inferiori a 100.000 abitanti. Tanti obiettivi vengono assegnati al personale dirigente secondo un metodo SMART, scientifico, specifico, misurabile, cioè devo dare un valore al raggiungimento dell'obiettivo che si esprime in una percentuale numerica o in un tempo prestabilito durante l'esercizio finanziario e sempre nel principio di separazione. Tali obiettivi poi saranno misurati e valutati da un altro organo indipendente, l'OIV, che va a valutare la performance lavorativa del personale dirigente. Quindi i dirigenti di scimata dall'articolo 107 del TUE e dall'articolo 4,2 del 165 del 2001, il TUPI, sono organi autonomi in merito ad effettuare impegni di spesa tramite le proprie determine, atti di liquidazione o emanano provvedimenti, proprio come cita l'articolo 107 del TUE, provvedimenti amministrativi che riguardano le autorizzazioni, le concessioni oppure l'affidamento di lavori o per quanto riguarda bene servizi e forniture. Quindi possiamo affermare che i dirigenti garantiscono il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa e fanno anche sostanzialmente tutte le attività che rientrano nelle loro competenze, ovviamente. Poi per quanto riguarda sempre la parte della dirigenza emanano anche ordinanze ordinarie che si differiscono da quelle che vengono emanate dal sindaco come capo delle amministrazioni e quelle di ufficiali di governo. Sono ordinanze che vanno a fronteggiare anche l'elemento normale, come è stato anche pronunciato dalla sentenza del TAR Campania, sezione 8 del 18 giugno del 2020, che afferma sostanzialmente che tale ordinanze vanno a fronteggiare l'elemento normale che non è caratterizzato sostanzialmente da eventi imprevedibili o eccezionali che possono creare un danno alla sicurezza urbana e ai cittadini, bassi mensali e le ordinanze per la limitazione del traffico stradale riferite al codice della strada e per concludere anche le ordinanze in merito all'abbattimento e in pristino di opere abusive. In conclusione possiamo affermare che sia gli organi politici che quelli burocratici devono garantire ex ante il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa.